amiche ed amici di rete 8 sport benvenuti in eccellenza on air la nuova rubrica studiata da rete 8 sport che come dice il nome stesso va a trovare e va a spusciare le squadre di eccellenza le sette sorelle di eccellenza che hanno deciso di ripartire in questo nuovo format è il massimo campionato regionale abruzzese e noi di rete 8 lo vogliamo vivere qui proprio sul campo a due passi dai ragazzi che si stanno allenando agli ordini dei rispettivi mister saranno sette i collegamenti io mi trovo all'interno del leonardo petruzzi di città sant'angelo per raccontarvi e per spiare un po quello che sta facendo nico de eugenio una seduta intensa siamo a giovedì naturalmente la giornata decisiva per provare gli schemi contro un capistrello che nella prima giornata ha riposato e quindi arriverà forse più fresco fisicamente ma non so se arriverà più fresco mentalmente all'incontro contro la compagine pescarese qui a città sant'angelo è davvero tutto pronto addirittura i custodi stanno mettendo appunto il manto erboso storicamente un biliardo per questa categoria è un plauso quindi non solo alla società che nel frattempo ha anche acquistato proprio nell'ultima ora l'attaccante cichella l'ex alba che si è messo in mostra già in questo campionato quindi a una nuova conferma un nuovo punto di forza per la formazione di eugenio che sicuramente non vorrà fare lo spettatore ma vorrà recitare un ruolo da protagonista in questo campionato di eccellenza che si preannuncia ma l'abbiamo già visto nella prima giornata entusiasmante e pieno di emozioni come detto tanti collegamenti ben sette un collegamento per ogni campo e io vado subito ad aprire in bellezza e con la massima signorilità perché da capistrello c'è la nostra alice pagliaroli che ci racconterà gli ultimi istanti della seduta in corso e qualche novità qualche chicca se c'è a te alice buon pomeriggio a tutti voglio iniziare lorenzo con un po di sana invidia perché ti vedo gli occhiali da sole qui invece appena smesso di piovere il tempo è andato peggiorando nel corso della mattina sono calate sensibilmente anche le temperature al comunale di capistrello come potete osservare alle mie spalle la squadra si sta allenando classica partitella del giovedì rigorosamente in famiglia non si può fare diversamente e allora Giordani dovrà sciogliere così i suoi dubbi due in particolare due ballottaggi che però andremo a sapere tra poco voglio cominciare con la nota di servizio forse più importante per quanto riguarda questa particolare fase di emergenza sanitaria questa mattina la società ha provveduto alla somministrazione o meglio all'esecuzione dei tamponi per quanto riguarda non solo tutta la ruota dei giocatori ma anche i dirigenti lo staff tecnico lo staff amministrativo davvero tutti gli attori coinvolti nella società granata sono stati sottoposti a tampone antigenico i risultati non sono ancora arrivati arriveranno credo intorno a questa sera intorno alle 8 della prima serata di oggi e chiaramente ve ne renderemo conto però i giocatori stanno bene non ci sono persone con sintomi o con malessere particolari per cui assolutamente si procede spediti verso un unico obiettivo cioè esordire in questa nuova formula di campionato tra l'altro questa mattina è stata eseguita una sorta di sanificazione al terreno di gioco come potete osservare il sintetico in perfette condizioni è stato sottoposto a sanificazione attraverso un mezzo di trattorino che ha distribuito le interganze al di sopra della superficie dell'intero eh che tutto di di gioco per azione durata tra l'altro tantissimo credo almeno un paio d'ore che avrete modo di osservare perché abbiamo realizzato un'intervista esclusiva al mister all'allenatore Paolo Giordani in sottofondo c'era appunto il more del trattorino utilizzato per la sanificazione Sì la squadra era già competitiva nel senso per fare il campionato di eccedenza nella normalità abbiamo rivisto qualcosa perché c'è stata qualche assenza importante che chi per motivi lavoro chi per motivi covid comunque ha deciso di tirarsi indietro abbiamo dovuto innestare qualcuno qualcuno importante è over ma molti ragazzi che poi è quello l'obiettivo nostro per far giocare più possibili fuori vuota e trovarci pronti per lui o per qualche giocatore per riprendere in normalità insomma Eh provate lo scopo di alcun assenso però perché vi ritrovate senza Panecacio e D'Eramo secondo il mio personale avviso due giocatori importantissimi nonostante la giovanissima Sì sono due e duemila però sono cinque anni che giovano di salari praticamente nel senato non li manco considero quali vuole sono due top della categoria che per motivi loro ovviamente hanno deciso di riuscire cioè ci stiamo aspettando sinceramente dovrebbero iniziare per questa partita non ci saranno sicuramente poi al venire probabilmente faranno parte del gruppo e faremo faremo cercheremo ma chi li sostituisce sicuramente farò bene Assolutamente Prima giornata di campionato l'avete citato da spettatori Che idea si è fatto delle realtà che sono sicuro di questo campionato in merito di eccellenza quali sono le vere forze di loro? Sì diciamo le partite già hanno confermato quello che era il pronostico di quasi tutti insomma L'Aquila e Chieti una spanna soprattutto con l'Avezzano e Angolana subito dietro e insieme al Delfino Prato logicamente poi noi e Lanciano le mine vacanti che cercheremo di dare lustro a questo campionato Grazie Prego Adesso se siete d'accordo però io procederei con le ultime dei campi perché abbiamo ricevuto indicazioni importanti dalla formazione schierata come post tra titolare plausibilmente titolare da mister Giordani Vorrei cominciare con il modulo di gioco perché si scenderà in campo sicuramente a meno che non ci siano particolari stravolgimenti con 4-2-3-1 Voglio accennare subito agli acquisti, gli innesti importanti in questa fase di stallo stagionale il portiere ex Avezano Calcio, Chico Panti e il terminale offensivo Sorano, Enrico Cirelli Poi ci sono anche altri innesti legati però al parco dei fuori quota che impariamo a conoscere nel corso di questa mini stagione calcistica e allora la difesa 4-4 il primo dubbio è proprio in difesa perché scenderanno in campo sicuramente Rodi, Lombardo, Silvestri e Fantozzi il dubbio è nella scelta dei ruoli perché Lombardo è un tessino naturale mentre Davide e Fantozzi è un centrale di difesa per ragioni anagrafiche però potrebbe scegliere di investire i ruoli e quindi schierare Lombardo al centro della difesa a fare coppia con il neo arrivato Silvestri per dar maggiore esperienza ai due centrali a presidio della porta difesa da Ticco Panti e invece per quanto riguarda il blocco a due a centrocampo sicuramente ci saranno il capitano storico Edoardo De Meis e De Remis l'altro ballottaggio si pone invece sulla linea della tre quarti molto fuori, ma tre quarti a tre ci saranno due posti per tre giocatori ballottaggio a tre, due tra Fulvi Salvati e Franchi e allora facciamo quello che stiamo vedendo alle indagazioni che ci arrivano dai ragazzi senza Pettorina dovrebbero scendere i campi Salvati e Franchi e il terzo sicuramente Federico De Rosica all'estate dell'unica punta di Enrico Cirelli e quindi lui dovrebbe accolarsi in panchina questo ci dice la partitella di oggi ma insomma mancano ancora tre giorni quindi non esclude che l'allenatore possa ancora maturare dei due di vista della partita di domenica e poi voglio ricordare in definitiva gli squalificati perché sono due assenze importantissime saranno assenze infatti i difensori Cagomo Cantauzzi, Ex Chieti tra lato e poi il punto di riferimento strategico in difesa da anni, Luca Di Maista, fratello del capitano queste sono le ultime da capistrello non so Lorenzo se vuoi sapere qualcosa in più no perfetto Alice va bene così, sei stata molto precisa dettagliate le tue informazioni hai anche abbozzato una sorta di schema tattico per la gara di domenica prossima proprio qui al Leonardo Petruzzi contro la Renato Curi Angolana che nel frattempo si continua ad allenare va a mille la squadra riporta questa notizia lì a capistrello perché i ragazzi di De Eugenio davvero ce la stanno mettendo tutta grazie Alice ci abbassiamo un po' di qualità sotto l'aspetto estetico lo posso dire perché siamo amici però vado da un esperto da un esperto del Chieti che si trova proprio lì nel cuore della città per sentire un po' anche gli umori della piazza l'umore dei tifosi dopo la roboante vittoria nel derby contro il Lanciano linea a te Arsenio Iannotti grazie anche a te Lorenzo dicevi bene ci troviamo nel centro di Chieti qui di fianco a me c'è la biblioteca De Meis la squadra è tornata ad allenarsi nel pomeriggio agli ordini di Alessandro Lucarelli sul sintetico di Tollo lo ricordiamo fino a fine campionato sarà a Tollo la squadra è stata concessa il terreno di gioco di ultima generazione tra l'altro dal sindaco Angelo Radica ricordiamo il Sant'Anna alla Sant'Anna è in corso un'opera di restyling insomma fino a quel punto ci si allenerà a Tollo su questo sintetico il tecnico aveva concesso il classico martedì di riposo ora i ragazzi sono tornati a preparare la sfida importante con il Delfino Flaccoporto lo ricordiamo alle ore 15 domenica galvanizzata la squadra dalla vittoria lupulliana direi contro il Lanciano un 5-1 nel derby tra poco vi darò anche le ultime ma siamo andati proprio al centro della città a tastare un po' gli umori delle persone abbiamo realizzato a tal proposito anche un piccolo contributo qui al centro di Chieti speriamo che quest'anno sarà un campionato migliore che porterà comunque buoni risultati stiamo avendo buoni risultati comunque la partita scorsa contro Lanciano che è finita col punteggio di 5-1 è stata una partita che ha portato buone soddisfazioni ha dimostrato che comunque la squadra quest'anno può arrivare a degli obiettivi e quindi ciò che ci aspettiamo è comunque una grande cooperazione da parte della squadra e soprattutto la nuova allenatore che siamo felici che è ritornato e quindi niente che comunque si abbia un campionato che può veramente far vedere le possibilità le capacità di ogni giocatore in ogni singolo ruolo e comunque speriamo che neanche nella partita prossima ovvero contro la Flacco Pescara quindi un altro derby diano il loro meglio e facciano vedere ciò che sono capaci Guarda, spero che il Chieti Calcio possa salire il prima possibile in Serie D perché è una bella squadra forte e l'ha dimostrata in tante occasioni Speriamo che questo sbrilluccicante Chieti raccolga i frutti su quello che ha investito e che ha fatto e c'è da considerare che è anche una bella squadra di calcio femminile e quindi di non farsi insomma sotto di fare qualcosa all'altezza di questa società Ok Ecco, come diceva l'ultimo tifoso sbrilluccicante parlava di squadra sbrilluccicante il Chieti e allora possiamo darvi anche le ultime notizie Lorenzo perché l'allenamento del Chieti che si è concluso lo ricordiamo il Chieti si allena alle 14.30 tutti i giorni tranne chiaramente il sabato quando c'è poi la rifinitura della mattina rifinitura che ci sarà anche questa settimana a Tollo però non allo Stadio Angelini allo Stadio Angelini verranno preparate solo le gare interne quindi in questo caso giocando al Stan Marco la rifinitura si svolgerà come dicevamo a Tollo tutti a disposizione del tecnico Alessandro Lucarelli compreso il talento marocchino Anas Icramella di proprietà del notaresco questo giocatore molto interessante soprattutto pupillo di Alessandro Lucarelli che ha speso sempre ottime parole su di lui parole di elogio Anas Icramella che aveva un piccolo risentimento muscolare prima della partita vinta per 5 a 1 in maniera roboante con il lanciano nelle derby ebbene aveva questo risentimento era stato portato anche in panchina ma non è stato utilizzato dal tecnico Alessandro Lucarelli Lucarelli che lo proporrà sicuramente se non dall'inizio ma quantomeno a partita in corso contro il del fino Flacco Porto anche se dobbiamo dire può disporre di un attacco davvero esplosivo questo Chieti ricordiamo lo stesso Rodia Galli Fabrizi che è stato a mio parere il migliore in campo nella sfida contro il lanciano Spadafora e Tacchi ricordiamo anche Tacchi il giovane Tacchi 4 su 5 sono andati già a segno di questi attaccanti che ho nominato oltre chiaramente ad Anas Icramella che non è stato utilizzato chissà se già nella prossima gara nella partita contro il Delfino potrà essere in campo il talento marocchino anche se nell'ultima partita Lucarelli ha utilizzato un 3-5-2 quindi a meno che non arriverà un cambio del modulo perché ricordiamo nella parte di stagione che poi è stata archiviata era un esterno giocava sull'esterno a sinistra o a destra nelle 4-2-3-1 nel 4-3-3 di Lucarelli che ricordiamo adesso è passato al 3-5-2 quindi vedremo se sarà adattato come seconda punta alle spalle di uno tra Galli e Fabrizi oppure se entrerà a partita in corso o se addirittura ci sarà un cambio del modulo per contemplare dunque il tridente Icramella Galli e Fabrizi staremo chiaramente a vedere oggi si è svolto un lavoro prettamente tattico c'è attesa anche per l'esito dei tamponi anche perché il Chieti lo ricordiamo ha giocato contro il Lanciano dove ci sono stati alcuni casi positivi quindi c'è anche una sana preoccupazione chiaramente come dicevo poi il sabato quindi sabato mattina ci sarà la rifinitura a Tollo e lì ci saranno anche indicazioni maggiori riguardo quella che può essere la formazione anche se a mio parere dovrebbe essere poi confermato al di là del dubbio Icramella gli altri interpreti un centrocampo con Corticchia con Mariani che hanno fatto da filtro Verna che si è inserito molto spesso insomma una squadra di alto livello tecnico e staremo a vedere se ci sarà qualche piccolo cambio nella sfida fondamentale con il Delfino Flaccoporto lo ricordo Lorenzo perché dovendo avere il turno di riposo l'Aquila e l'Ecchieti ha la ghiotta opportunità di andare in testa la classifica in solitaria e insomma poi affrontare la domenica successiva l'Aquila con un vantaggio sarebbe una cosa non di poco conto per il L'Ecchieti che dunque punta chiaramente alla Serie D io direi che se non hai altre curiosità Lorenzo ti posso restituire la linea no va bene così va bene così Arsene anche tu ottimo lavoro tutti i dettagli di questa seduta fondamentale se non decisiva per la formazione di Lucarelli lo abbiamo detto è giovedì e di solito tatticamente si cominciano già a preparare gli incontri della domenica successiva come hai detto tu partita fondamentale per il Chieti che va ad incontrare un delfino ferito ma che sicuramente venderà cara la pelle in questa giornata è la seconda ma è già una giornata importantissima lo vedo già pronto sempre in diretta sempre su Rete 8 Sport il nostro Federico Di Fabio linea a te Federico per le ultimissime sul delfino fracoporto ciao Lorenzo ciao a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo qui da Pescara potete vedere dalle mie spalle inizialmente si stanno allenando pochissimi ragazzi perché il resto della truffa di mister Bonati è in attesa del giro di tamponi che si effettuerà dalle 5.30 e poi alle 6 tutti in campo per la seduta tattica come dicevi bene tu Lorenzo seduta tattica che vedrà il ritorno in campo di Stefano Albanese il talento classe 99 Scuola Pescara difensore che lo scorso anno ha sbillucicato qui in riva all'Adriatico con il mister Bonati che da vera chioccia lo è riuscito a plasmare in quello che è appunto il suo ruolo definitivo è passato da terza e sinistro a difesa in difesa centrale come difesa a tre Albanese che non si è allenato all'Aquila aveva provato a riscaldarsi assieme allo staff atletico Mastropietro Chiacchiaretta e Roberto Sara non si è riuscito a scaldare come lui prevedeva aveva ancora una piccola contrattura alla gamba sinistra quindi ha preferito non scendere in campo cosa che farà sicuramente con il Chieti probabilmente partirà titolare assieme a Sabatini e a Giannini nella difesa tre di mister Bonati un po' atipico perché solitamente mister Bonati piace cambiare come ben sai Lorenzo ma anche Arsene che ha visto moltissime partite della squadra piace cambiare in corso d'opera da una difesa a tre difesa a quattro la cosa sicura che i tre interpreti difensivi saranno loro Tine Mori Marzucco rispettivamente a destra e sinistra come quinti di centrocampo Silvestri sarà il perno centrale resterà da vedere come giocherà davanti sicuramente Gobbo o da Mezzala oppure da seconda punta vedremo se esordirà il nuovo arrivato Petrarulo che oggi è atteso per il terzo allenamento con la casacca pescarese si era ben comportato lo scorso stagione con la maglia dell'Alba di Atica arrivarono se non sbaglio otto gol per lui che è un classe novantotto prima parte di stagione la San Giustese poi appunto con il Delfino vedremo appunto se esordirà ma sicuramente non sarà del match o comunque è molto difficile che recupererà il centrocampista il tuttocampista possiamo chiamarlo così Giuseppe Molenda per via di una pubalgia ha dovuto dare forfenne nella partita contro l'Aquila che comunque nonostante il risultato dato i buoni buone diciamo nuove per Bonati che ha visto la crescita di tanti ragazzi nonostante questo periodo di fermo appunto Molenda che per una pubalgia dovrà probabilmente dare forfè anche per la partita con il Chiedi Lorenzo Falco vi racconto questa chicca il talento diciamo più sbillucicante di questa squadra sia a Marco Teraschi che la scorsa stagione a gennaio è passato al Latina ha effettuato un provino con la Re Canatese che appunto era alla ricerca di un profilo simile al suo ovvero un esterno veloce è molto dotato tecnicamente ma anche tatticamente è andato a buon fine però hanno deciso probabilmente di spostare il trasferimento nella prossima stagione staremmo a vedere un po' quello che sarà il futuro di Lorenzo Falco futuro certo è quello di Jacopo Vedovato che ieri ha effettuato il primo allenamento con la casacca biancazzura è atteso per il secondo lui che proviene dal San Buceto nella prima parte di stagione anche se era in prestito dal Chieti proprietaria del cartellino insomma Lorenzo io credo che ci siano buoni presupposti per vedere una bellissima giornata qui al San Marco come ricordava Arsene domenica alle ore 15 ma prima di chiudere di ritarti la linea vi prego la regia di mandare i contributi siamo con Simone Marzucco e Pierfrancesco Dincecco una prima battuta la vorrei fare con Simone sei tornato in campo dopo più di un anno prima lo stop del campionato per il covid poi un brutto infortunio a agosto durante la preparazione della prima parte di stagione quali sono state le tue emozioni per insomma aver essere tornato in campo sì sono molto contento di essere tornato in campo sono stato fermo più di un anno è stato personalmente il primo infortunio grave quindi legato al covid più di un anno fermo è stato difficile però per fortuna adesso abbiamo ricominciato siamo pronti per questo campionato iniziato giovane Pierfrancesco anche tu nella tua carriera nonostante comunque sei un classe 98 Simone ha pochi anni più da te hai avuto un brutto infortunio quale deve essere secondo te ma dopo lo chiedo anche a Simone lo spirito giusto soprattutto in queste categorie per ripartire per un ragazzo io penso che la differenza in queste categorie ma credo anche nel professionismo lo fa sicuramente l'aspetto mentale perché la determinazione e la voglia di comunque di fare tanti sacrifici perché la riabilitazione dopo il crociato sono esercizi tra le ruolette pesanti dove senti comunque uno che ha difficoltà motorie anche a fare la cosa più semplice quindi ci vuole tanta pazienza tanta dedizione tutto questo ti viene solo se hai tanta voglia e tanta passione dentro e soprattutto la cosa ancora più più pesante è quando ci sono le ricadute diciamo si raddoppia la dose di determinazione di sacrificio è dura però per passione credo che si faccia queste dalle tu Simone cosa vuoi aggiungere sul discorso di Pierfrancesco quello che ha detto Pierfrancesco sono completamente d'accordo diciamo lo spirito di sacrificio è fondamentale in queste situazioni perché abbattersi dopo infortuni gravi è molto facile però con tanta determinazione si può riprendere parlando di temi un po' più belli appunto il campo si è tornati dopo sei mesi quasi di stop sempre per problemi legati al covid la prima partita tutto sommato nonostante i risultati è andata bene appunto in vista della prestazione della squadra domenica c'è il derby con il Chieti insomma Simone tu da terzino ormai con Guglielmo Pierfrancesco come attaccante gli vuoi fare qualche assist beh speriamo bene saremmo tutti contenti nonostante affrontiamo un'ottima squadra noi cercheremo comunque di dire la nostra e farci valere soggiasi che nel allenamento ti serve bene Simone? sì sì diciamo che ci troviamo abbastanza bene un buon aspicio per domenica ma sì domenica comunque incontriamo una grandissima squadra che insieme all'Aquila probabilmente all'Avezzano si giocheranno testa a testa il campionato penso fino alle ultime giornate noi dal canto nostro daremo del frio alla torcia a tutte quante e diciamo prenderemo ogni partita come un bagaglio di esperienza perché fare partite come domenica scorsa all'Aquila per una realtà come la nostra è solo diciamo orgoglio per noi ragazzi per tutta la società e speriamo ricordandoci da dove siamo partiti di arrivare sempre più in alto mantenendo diciamo la nostra la nostra cultura a te a te Lorenzo grazie 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 Federico torniamo in diretta qui dal Leonardo Petruzzi innanzitutto vi dico che la squadra è tornata in blocco all'interno degli spogliatoi quindi seduta del giovedì appena conclusa giro di tamponi immediato all'interno della struttura nella precisione nello spogliatoio della Renato Curi Angolana presidente Spinelli presente ovviamente insieme al direttore generale Bucci il prossimo collegamento lo vedo già in diretta già pronto sulle tribune del Gran Sasso d'Italia Italo a Concia per parlarci dell'altra capolista insieme al Chieti l'Aquila 1927 per noi c'è Angelo Liberatore a te Angelo Sì buon pomeriggio Lorenzo allora anzitutto il dato meteo all'Aquila primavera ancora di là da venire nuvole basse fin dalla mattinata e proprio adesso ha cominciato a piovere forte in concomitanza con il triplice fischio finale di quella che è stata la seduta del giovedì gruppo agli ordini dei due tecnici Roberto Cappellacci e Andrea Sciarra lavoro differenziato per i due infortunati Patrizio Moscianese che era uscito domenica scorsa alle prese Moscianese con un problema a linguine assieme a Moscianese anche Alex Dercole ai box l'altro infortunato l'ultimo arrivo dall'Aquila di questo mercato in vista della ripartenza era arrivato dal Ponte Romano una piccola infiammazione all'adduttore per Dercole ma filtra ottimismo anche perché l'Aquila in questo fine settimana sarà spettatrice nella seconda giornata del campionato di eccellenza tornerà in campo il 25 di aprile con il Chieti quindi ci sarà tempo e modo di recuperare quelli che sono i giocatori attualmente infortunati per quello che ha riguardato la seduta d'allenamento a cui ho assistito nell'immediatezza di questo collegamento Cappellacci ha parlato a lungo con la squadra ha riunito i ragazzi a centrocampo tanta attenzione per quello che ha riguardato in particolare i movimenti offensivi e difensivi da quello che si è potuto vedere in particolare nell'ultima fase della seduta di allenamento partitella non tanto classica perché? perché si è giocato a tutto campo 11 contro 11 e soprattutto attacco contro difesa per rodare appunto i meccanismi della squadra prima ancora c'era stato una fase di lavoro atletico quindi senza palla ma questo perché? perché siamo ancora naturalmente nella prima fase di questo nuovo campionato e quindi c'è da affinare ancora e anche la preparazione atletica e in questo la settimana di sosta per l'Aquila arriva a Fagiolo non tanto poi quello che arriverà dopo perché ci saranno due scontri diretti importanti con il Chieti prima con l'Avezzano poi che già molto potranno dire di quello che potrà fare l'Aquila e ciò che vuole fare la società Rosso Blu lo ha detto anche il copresidente Gabriele Di Cristofaro non ci tiriamo indietro ha detto Di Cristofaro che oggi tra l'altro era presente al campo al pari del direttore sportivo Luca Di Genova di buona parte della dirigenza questo anche per darvi l'idea della vicinanza della società alla squadra Rosso Blu insomma l'idea è quella di vincere questo campionato l'Aquila non si vuole assolutamente nascondere un cappellacci che ai suoi ha chiesto nel corso della seduta attenzione a profondità appoggi cambi di direzione insomma un cappellacci che vuole sempre più rodare e oliare i meccanismi della squadra come detto tutti a disposizione gli unici due ai box D'Ercole e Moscianese i portieri abbiamo detto lavoro a parte per loro agli ordini del preparatore Giancarlo Fetrocco un occhio particolare a quella che è l'area attività per Ciuffetelli Chicarella e per il portiere titolare Domingo Dalmasso hanno anche scherzato Chicarella e Domingo Dalmasso prima dell'inizio della seduta con il giovane classe 2003 che si è rivolto a quello che è attualmente il titolare dell'Aquila dicendo studio dal migliore per cercare di scalzarlo insomma anche questo per darvi un po' l'idea di quello che sia il gruppo squadra dell'Aquila gruppo squadra molto unito e molto attento anche ai dettagli seduta alle due e mezza era prevista già un'ora prima della partita i giocatori erano arrivati allo stadio Gran Sasso d'Italia Italo Acconcia insomma attenzione al dettaglio attenzione massima adesso l'Aquila farà attenzione questa domenica a quello che succederà sugli altri campi per poi tornare protagonista in prima persona il 25 di aprile allo stadio Guido Angelini di Chieti non so se altre domande curiosità Lorenzo sono a disposizione va bene va bene così Angelo anche perché da come hai detto insomma il maltempo imperversa lì all'Aquila con la primavera che tarda ad arrivare ti lasciamo riposare e ti ringraziamo per questo intervento direttamente dalle tribune dalla tribuna centrale dell'Italo Acconcia Gran Sasso d'Italia nel cuore dell'Aquila una delle città più belle d'Abruzzo un capoluogo di provincia capoluogo di regione la stessa l'Aquila insieme a Chieti ma tante le città coinvolte Avezzano Lanciano le piccoline diciamo così tipo Delfino Flaccoporto città Sant'Angelo che però storicamente hanno sempre dimostrato di dar fastidio alle cosiddette grandi e allora a proposito di Lanciano ovviamente sono arrivate notizie rumors su eventuali casi covid anche qui cercheremo di ottenere delle risposte non dico ufficiali ma almeno ufficiose d'altronde insomma si giocherà già domenica e questo è il giorno giusto per cercare di carpire appunto nuove notizie lo vedo in diretta il nostro Giampiero Cancelli proprio da Lanciano Giampiero linea a te facci sapere qualcosa di nuovo per quel che riguarda la questione sanitaria ma se ci sono degli spunti anche a livello tecnico e a livello tattico siamo qui ad ascoltarti con attenzione linea a te allora buonasera a tutti intanto in diretta da Lanciano soltanto per darvi alcune notizie oggi non ci sarà alcuna seduta di allenamento causa tamponi viste le positività riportate nei giorni scorsi dopo la gara contro i Lecchieti infatti è ancora a rischio anche la gara di domenica prossima non ho ancora ulteriori dati su quanti siano effettivamente positivi a questa mattina si parlava dei famosi due già dichiarati ieri attualmente siamo in attesa di ulteriori risultati sicuramente la gara contro i Lecchieti ci ha fatto male però ci ha fatto vedere anche secondo me i nostri limiti non me ne voglia mister di Pasquale sicuramente però cercheremo di riprenderci al massimo non ci sono altri aggiornamenti attualmente da mangiare Giampiero? si dico ok hai concluso ho concluso ascoltami ascoltami quando secondo te si avranno più certezze in quale tempo in quale in quale orario secondo te ci sarà allora io ho provato a contattare Claudio Aruni questa mattina il quale mi ha detto non sappiamo ancora niente probabilmente nel pomeriggio posso dirti che i giocatori però secondo quello che mi è stato riferito da mister di Pasquale faranno i tamponi domani perfetto perfetto quindi dai attendiamo attendiamo notizie sperando siano notizie buone notizie positive per quel che riguarda sicuramente ti posso dire che la gara di domenica è molto a rischio è quasi probabile che non si giochi però insomma non ho notizie ufficiali ulteriori al riguardo perfetto perfetto grazie al nostro Gian Piero Cancelli in diretta da Lanciano io sono qui all'interno del Leonardo Petruzzi gruppo squadra che ha effettuato i tamponi proprio in questo momento negli ultimi 5-10 minuti dopo la seduta di allenamento prima di chiudere con l'ultimo nostro inviato io chiederei al nostro Mario Giacchetta in regia di mandare in onda le impressioni proprio qui percepite al Leonardo Petruzzi di Città Sant'Angelo di mister De Eugenio e del presidente Spinelli che ovviamente ha voluto con la sua presenza dimostrare non solo vicinanza ma anche per cercare di mettere benzina sulle gambe di questi ragazzi che domenica avranno l'impegno contro il capistrello capistrello agguerritissimo come ci ha detto la nostra Alice Alice Pagliaroli eccoci qui siamo in diretta noi ovviamente abbiamo rubato il mister lo abbiamo letteralmente sequestrato dal terreno del Petruzzi mister grazie per la disponibilità la tengo 30 secondi come sta la squadra e qual è il pericolo principale da parte del capistrello che domenica giocherà la sua prima gara niente purtroppo sono troppe incognite nel senso non sono valutabili gli avversari ecco ripeto poi hanno pure riposato quindi sinceramente sì sono più o meno gli stessi di prima con qualche aggiunta dobbiamo essere bravi ha fatto un bel gol adesso un bel diagonale dobbiamo essere bravi a rispettarli e a tenere conto che sono sempre una formazione molto ostica molto dura da affrontare e quindi capire che domenica per noi è importante perché vogliamo cercare di fare una bella prova e cercare di vincerla insomma mister tornando a domenica ovviamente quella è una partita che ha dato tante indicazioni su tutti i pregi e quali sono stati secondo lei i difetti i pregi che abbiamo fatto una partita di sostanza soffrendo veramente poco forse i difetti è che nelle ripartenze specialmente il primo tempo 6-7 palle semplici le abbiamo buttate all'ortiche invece potevamo far male quindi anche lì dobbiamo migliorare perché qui si può veramente sbagliare poco in questo mini torneo mister a fine seduta come ha detto il direttore ci saranno i tamponi però da quello che sto vedendo insomma tutti abili tutti arruolati per domenica questo speriamo tocchiamo ferro tocchiamo ferro questo veramente speriamo non sappiamo dire però dobbiamo essere anche bravi a convivere con questo discorso e a fare le scelte giuste dai non possiamo fare altro perfetto grazie mister buon lavoro e soprattutto in bocca al lupo per domenica grazie mille grazie mister grazie allora siamo con il presidente della Renato Curi Angorana Spinelli abbiamo sviscerato un po' presidente l'aspetto tecnico ma anche sotto l'aspetto del mercato il direttore insomma con questi nuovi colpi ha dato ancor più forza ancor più vigore alle intenzioni che avete da da quando avete deciso di ripartire questa è una rubrica che si occuperà settimanalmente delle sette squadre le andrà a trovare sul campo per cercare di carpire le informazioni giuste senza svelare ovviamente le questioni le questioni tattiche come sta l'angolano? io credo che praticamente stia bene abbia molta fiducia nei suoi mezzi siamo stati un po' sfortunati della prima partita ad averla pareggiata in quel modo ma soprattutto perché eravamo rimasti in dieci e anche perché eravamo rimasti privi di quel centrale di Luca Gianmarino che purtroppo ci ha messo nei problemi speriamo che il ragazzo possa recuperare quanto prima il direttore sportivo questa mattina mi ha parlato di una sostituzione del ragazzo perché appunto avendo avuto questa diciamo volontà di ripartire credo che fare bisogna ripartire in maniera degna adeguata anche perché il nome che portate non è importante Lorenzo a me dà fastidio o si fa o non si fa allora se si deve fare decuvertene a Città Sant'Angelo non è il benvenuto no nel senso che questo fatto dei blasoni insomma con tutto per carità con tutto il grande rispetto che uno deve nutrire società come Chieti l'Aquila la testa lezzano però guardi che noi non è che siamo tanto tanto da meno perché in fondo noi veniamo fuori da oltre 20 anni di campionato di Serie B ma soprattutto abbiamo calcato i campi dei semiprofessionisti negli anni 70 quando soltanto le società delle province erano presenti Cepieti Pescara Ciacquil e Teramo le altre non esistevano quindi voglio dirti che tutto sommato una breve storia l'abbiamo anche noi 80 anni 70 anni di campionati e di vita ed è corretto ed è giusto Presidente mantenere alto il nome l'onore di una società che appunto ha dato tantissimo allo sport abruzzese e non solo io la devo salutare per una questione di tempi innanzitutto la ringrazio per la presenza perché so che l'ho bloccata dal lavoro e deve far quadrare i conti da quello che sono non solo qui in società ma anche sotto l'aspetto professionale la ringrazio noi dobbiamo far quadrare i tempi ma so che lei è un personaggio anche televisivo un super personaggio televisivo e ci è riuscito benissimo quindi ridò la linea alla regia e noi Presidente ci vediamo giovedì prossimo perché sarò qui in panchina a controllare grazie grazie e buon pomeriggio grazie Presidente grazie e allora eccole le parole del mister Deugenio e del presidente Spinelli c'è voglia di rivalza dopo la gara di domenica che per i ragazzi del mister Teramano ex Morrodoro insomma è sembrata più una beffa che un pari da accettare col sorriso staremo a vedere cosa accadrà domenica abbiamo aperto in bellezza e vogliamo ugualmente chiudere in bellezza dando la linea alla nostra Veronica di Giovanni da Avezzano per cercare di capire qual è lo stato di forma dei lupi e qual è naturalmente la voglia dopo il pareggio interno con la Renato Curi angolana di tentare di cercare nuovamente la vittoria dopo un pareggio beffa insomma che non ha lasciato tanti sorrisi su tutti quello di Paris tirato in volto nel post match davanti alle nostre telecamere linea a te Veronica ti vedo già in diretta buonasera a tutti buonasera grazie per per avermi insomma contattata io mi trovo a casa in questo momento sono stata prima alla seduta consueta di allenamento del giovedì quindi ho visto come dicevano i colleghi qui addirittura ha nevicato i ragazzi si sono allenati e continueranno a farlo anche domani sabato sul comunale di Antrosano proprio perché il presidente Paris sta effettuando e continua ad effettuare lavori di concimazione al Dei Marzi infatti non so se avete potuto vedere le immagini della scorsa gara Avezzano-Angolana uno stadio Dei Marzi che sicuramente è apparso in una forma veramente molto molto buona una forma che non si vedeva sicuramente da molti anni ecco l'Avezzano è sicuramente in bilico in bilico perché attende le risposte del Lanciano sappiamo da fonti certe che appunto il Lanciano effettuerà i tamponi nella giornata di domani come li effettuerà anche l'Avezzano e ci tengo a ringraziare il presidente Brocco del Pineto che è sempre disponibile infatti è grazie a lui che vengono analizzati i tamponi dello staff e di tutti i giocatori bianco-verdi quindi l'Avezzano resta in bilico domani sicuramente si avrà la risposta in merito alla gara di domenica una gara che sicuramente il mister Torti sta affrontando con uno spirito diverso abbiamo visto i ragazzi anche molto grintosi vogliono sicuramente la vittoria dopo un pari che ha scontentato un po' tutti sia l'Angolana che l'Avezzano il modulo probabile che riproporrà il tecnico Antonio Torti è quello del 3-5-2 3-5-2 con in difesa il centrale di Gianfilice il vice capitano a destra Puglielli Jacopo e a sinistra Castro incertezze invece sul centrocampo incertezze anche dettate da Cancelli e Blanco i due attaccanti che erano fuori nella scorsa giornata proprio per infortunio quindi in base ai dati che avremo sicuramente nella giornata di sabato su Blanco e Cancelli il mister farà poi le sue scelte a centrocampo e poi ecco in relazione anche all'attacco Paris sicuramente l'avete visto tutti come dicevi anche tu nelle telecamere dopo il post partita un po' spento però posso dirti che non c'è stata una reazione così negativa nello spogliatoio al termine della gara c'è tanto da migliorare lo stanno facendo i ragazzi si stanno impegnando giorno dopo giorno speriamo insomma si giochi perché un ennesimo stop non so quanto giovi soprattutto all'Avezzano perché lo vedo da vicino insomma ma sicuramente sarebbe un ulteriore turno di stop che non farebbe bene alla compagine bianco verde da Avezzano è tutto non ci sono ecco ulteriori aggiornamenti anche perché il tecnico torti di vita sugli undici ufficiali ce la dà sempre proprio pochi minuti prima della gara quindi sull'ufficialità degli undici non questi sono i segreti del mestiere fanno bene così perché è un campionato innanzitutto ti ringrazio Veronica per queste informazioni last minute che ci hai appena comunicato dicevo sono i segreti del mestiere gli allenatori abbottonatissimi anche Nico Deugenio insomma non ha lasciato trapelare davvero nulla perché sono troppo troppo dure queste gare mini campionato io ho completato i collegamenti con i colleghi che ringrazio ovviamente per essere lì sul pezzo in diretta a raccontarci le ultime novità di questo campionato particolare ma che rimane sempre bellissimo perché le squadre che ne fanno parte hanno una storia hanno un onore da difendere e soprattutto vogliono raggiungere un sogno chiamato serie D si conclude qui il primo appuntamento di questa nuova rubrica creata studiata voluta dal nostro Luciano Di Luigi e da tutta Rete Otto Sport per entrare sul campo per conoscere i segreti per conoscere le caratteristiche le voglie gli entusiasmi delle sette sorelle che si giocano la serie D un ringraziamento particolare in regia al nostro Mario Giacchetta ovviamente un abbraccio ai nostri inviati per ora virtuale ma sono certo che tra qualche settimana lo potremmo fare realmente buon lavoro a tutti io naturalmente ringrazio voi che ci avete seguito sempre numerosissimi da casa sul tablet da cellulare insomma ovunque arriviamo ovunque perché questo campionato merita di essere guardato sempre dall'inizio alla fine ci vediamo la settimana prossima sempre in eccellenza on air ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.